Buongiorno a tutti, allora come forse ricorderete ieri era l'ultimo giorno per partecipare al giveaway che ho fatto su Spock, quello in cui si vincevano appunto le creazioni che potete vedere in questa foto. Allora, bando alle ciance facciamo una cosa molto veloce, intanto ringrazio tutti per le belle parole che mi avete detto, belle nel senso che siete state dolci oppure che siete state simpatiche eccetera eccetera. E niente, la vincitrice l'ho contattata qualche minuto fa su Facebook, comunque si chiama Alessia Mosca. Complimenti, hai vinto, adesso appunto parleremo in privato e mi darai il tuo indirizzo e niente, avrete altre occasioni comunque, quindi non arrabbiatevi se non avete vinto e noi ci vediamo presto, ciao!